Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Livorno e il suo porto di Alessandro Brunetti Sesta puntata Per facilitare un importante ramo del commercio portuale vengono costruite un po' per tutta la città ma in special modo sui bastioni delle buche destinate alla conservazione del grano Nel 1600 viene terminato il porticciolo per ricevere le navi provenienti dal canale dei navicelli La sua precisa obbligazione è molto incerta seppur comparendo in alcuni iscritti si hanno riguardo molte contraddizioni e dati non precisi Mentre si lavora le fortificazioni del porto viene creato il nuovo arsenale marittimo per la costruzione delle navi da guerra e mercantili Nel 1600 si ha l'inizio dell'era industriale di Livorno L'insediamento delle fabbriche si sussegue e il movimento commerciale aumenta sempre di più Nel 1605 si giunge al completamento del canale dei navicelli Mettendolo in comunicazione con il fosso che circonda la fortezza nuova Utilissima e rapida via di comunicazione del porto di Livorno con il mercato di Pisa E per via d'Arno con la stessa Firenze Oltre all'ospedale di Sant'Antonio Al bagno dei forzati, costruzione fortificata presso il porto Ferdinando I fa costruire in piazza d'armi il Duomo I portici, su disegni agli architetti Jones, Pieroni e Cantagallina E il palazzo della Doganetta, destinato a ricevere gli ospiti di case medici Volendo dar vita a una città, il Granduca non può esimersi dalla costruzione di abitazioni per uso privato Le affitta, o cosa nuova, le rende a riscatto con un mutuo della durata di sette anni A condizione che l'acquirente si stabilisca nella città L'iniziativa è a base speculativa e le case sono degli alveari Sotto Ferdinando I è apportata a termine la seconda cinta muraria della città Le nuove mura cominciano al termine di via Ferdinanda, l'oderna via Grande Proseguono poi per via del Bastione, via del Mulino a Vento, via delle Mura, via dei Lanzi, via Bontalenti Attraverso il bastione di San Cosimo giungono a porta a Pisa e chiudono all'altro lato la via Ferdinanda Poi costeggiando la fortezza nuova nella sua primitiva struttura E continuando parallelamente al Fosso Reale, terminano davanti alla fortezza vecchia Le porte sono sei, quattro principali e due secondarie Si chiamano rispettivamente porta a Pisa, porta nuova, porta a Colonnella, porta dei Navicelli, porta dei Cappuccini e porta alla Bocca La nuova cinta ha una lunghezza complessiva di 5 km e racchiude 10.000 persone al suo interno Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it E nella sezione FlashTube di www.radioflash.info